Cos'è il numero? Bucca numero 5 Aia No, c'è che buca Ripare 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 Uno, forte Forte qua No Buca 5 Buca 5 ragazzi Aia Ragazzi è più divertente più facile Sì Per asciugare Eccolo 3 1 3 1 4 Katia Katia vieni qui Basta di qua Che togli il tempo fuori da mettere qua 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 qui dove è caduta qui ho usato troppa potenza qui mamma uno era un po' meno andava dentro che olè loris Bello! 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 All king one! Yes! Fallina? Si! Uno! Si vede la faccia Uno! Uno! Grande! Dammi 5! Dale! Che c***o! Che c***o! Che c***o! Raga! All in one! Perfetto! Dei mister e Loris! Dei mister e Loris! Qua davanti! Uno! Bravo! Uca! Numero? 8! 8! Un fail! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Ma non un po' di forza! Ma non un po' di forza! Ma qua è tosta! Ma questo è il tuo eh! Ma questo è il tuo eh! Ripai! Piano! Piano! Ma no! Eh! Hai anche un 3! Tre? Hai anche un 3! Ma che cosa le sta bruciando tutte? Eh! Ma perché c'è un salto lì? 4 neanche è arrivato eccolo no è andato via l'uno questo è il tuo in quanto 3 ma non hai visto mamma che sei perso il mio tiro è andato diretto la pallina anche la palla va giù arrivo no 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 ma è 3 ai 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 6 4 4 per me raga più forte 8 8 9 9 9 6 7 8 8 10 10 14 14 14 15 15 obbligato opla ok bello 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 dove è il tutto qua tutto qua anche no c'è un tunetto ahia non lo faccio no no ma con tutte queste tunette tutte queste tunette un po' ma da mettere nel tappeto qua verde o è sasto? è sasto ma c'è un buco nel tappeto verde no 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 è da marcar no è lì è giusto eh ma non c'è il coso qua non lo vedo è lì con marrone ah è vero è là e poi mettonocire lì c'è ma c'è lì c'è la cosa ma dov'è? eh là vicino eccolo uno ma giù te lo ocio fa la tre camera eh nooo eh stesso due due punetta e tre o lì marca tocca a me tocca a me fateci capo ragazzi uno oh oh nooo fermo oh bravo oh 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 bravo sì due due buca numero eh uno due dove è andata? contro il muro contro un sasso qua buca dieci ragazzi buca dieci oh ma no aspetta mancava che spasola sì no appunto questa è la buca dieci tre meglio ecco qua avanti vai qua la faccio a mano Loris tutto a mano eh guarda guarda dove sei incastrata perché che devi fare a mano dopo? eh ognuno fa un faccio a te e dopo tu la fai a me tu sei l'ultimo e tu la fai a me nooo sei buca numero 12 Katia sei Katia buca 12 si vai da lì dal bordo sei e buca 12 due lapici ma Katia nooo fiii ma questo è troppo difficile sì questo è tre no devi riuscire a beccare subito la buca al primo quattro sei e buonanotte aspetta aspetta cinque magari va dritta no sei 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 vai Loris sei mamma tira prova 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 sei uno no 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 una mira devi avere qua due nell'angolo vai buttare un po' fuori questo è due tre questo fa il tre questo fa il tre bello oh si oh tre un tre tiri vai cambio adesso tocca a me tocca a dei mister devo battere tre eh vuoi venire giù due eh aspetta eh che se la faccio piano no no ah si no no però ho sbagliato buco di miguel bravo Loris prossima buca